Ah, straziante e meravigliosa bellezza del creato! Queste immagini che avete visto adesso dovevano concludere questo ricordo di mio padre Totò. Ma siccome lui era un po' bizzarro, ci continua a stravolgere ogni tanto. Quindi abbiamo il Pinocchio dei Voluminei, una rivista che lui fece molti anni fa e poi quest'ultimo regalo dei Fratelli Vanzina dove ci sono dei fuoriscena dei film che lui ha girato con il padre, con Steno, cosa di cui io veramente ignoravo l'esistenza fino a poco tempo fa. Qui sia grandi che vicini, siamo tutti un po' cretini, burattini in libertà, burattini, burattini, burattini in verità. Qui le teste sono di legno, che è proibito avere ingegno. Chi ragioni in questo regno non è degno di gambà. Qui il pensiero più profondo è di fare il giro tondo proprio in mezzo alla città. Giro tondo, giro tondo, giro tondo l'arionà. L'altro di mil passeggiare. Mi son messo a piscchiettare. Un fantoccio invertilente ha esclamato la ferma. Che discorso intelligente ti faremo potestà. Qui il pensiero più profondo è di fare il giro tondo proprio in mezzo alla città. Se a tua scuola son distratto, se mi fruta me lo gratto. Non son mai una parola, non son niente. Ma che fa? M'han promosso perché a scuola per il scherzo ci si va. Qui il pensiero più profondo è di fare il giro tondo proprio in mezzo alla città. Giro tondo, giro tondo, giro tondo l'arionà.